Ma indubbiamente i tempi sono cambiati velocemente, però noi oggi premiamo chi è in commercio da 25, da 40 e 50 anni. È vero che c'è stato un grande cambiamento, ma in questa nostra bellissima Liguria, in questa nostra bellissima provincia di Savuna, noi sappiamo che il terziario di mercato è sicuramente fonte di pille, fonte di economia e purtroppo avendo perso un po' quello che era l'industria dove lavoravano molte persone, noi cerchiamo in tutti i modi di mantenere questi posti di lavoro. Queste persone che oggi vengono premiate dall'Associazione 50+, che è un'associazione della Commercio, vogliamo dire loro grazie, vogliamo dire che siano ancora di esempio, vogliamo dire che grazie a loro, molte, molte, molte botteghe, voi che girate, che portate a conoscenza di tutti com'è la situazione in provincia di Savuna, appunto molte strade sono ancora illuminate dai negozi, da queste insegne, noi ci auguriamo che lo siano ancora per molto, la preoccupazione è che invece ci sono dei segnali non troppo positivi. A loro comunque un grandissimo grazie.